In questo momento al quindicesimo stato d'avanzamento dei lavori che è stato fatto proprio il 31-12 abbiamo speso 12 milioni e 500 mila euro sui 16 e 500 diciamo di importo a base d'asta dell'impresa che si è giudicata la gara. La Medil è un consorzio stabile SCPA di Benevento con la società esecutrice consortile Don Blasco. Quindi siamo esattamente al 76% di tutto il finanziamento dell'opera. Come sapete abbiamo avuto degli intoppi strada facendo derivanti dall'ordine bellico, dalla situazione del Covid, derivanti dai problemi della rifotrans qua alle nostre spalle che ci ha causato ritardi, ben tre ricorsi al TAR e due ricorsi al CGA che sono stati superati dal Comune. E quindi ora si sta lavorando allo smaltimento di tutti i rifiuti che sono contenuti in quest'area dove si potrà collegare questa zona dove siamo noi di via Maregrosso con la zona di via Industriale e la rotatoria di Zaera che è già operativa e pronta e che oggi avrete modo di vedere. Trent'anni, sono tanti. Dica la verità, c'è stato un momento nel quale lei ha detto che quest'opera non vedrà mai la luce? Sì, molti pensieri ci sono stati in questi 30 anni. Fin quando non si è finalmente individuato un finanziamento che potesse dare soddisfazione a quello che era l'esigenza del Comune, ma non soltanto dell'area dello Stretto. Perché questo progetto, pensate, che ha avuto nel 1989 un accordo quadro dell'area dello Stretto tra le città di Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Messina, il Ministero dei Trasporti e Navigazione e Ferrovie dello Stato, ha avuto questo itere lungo e quindi fin quando non si è trovato la fonte di finanziamento, che per fortuna la Regione poi ha individuato in dei finanziamenti che erano specifici per le attività di collegamento tra le zone portuali e gli svincoli autostratali, ecco, quello è stato il momento importante e finalmente dove abbiamo visto un futuro, una concretezza. Perché nonostante il fatto che è stata necessaria un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, la cosiddetta ordinanza di sicurezza per Messina, di protezione civile, all'epoca sottoscritta dal Presidente del Consiglio, all'epoca Berlusconi, in pratica poi soltanto col finanziamento concreto si è potuto partire e quindi con gli espropri, tutta l'attività espropriativa, con l'accordo con le ferrovie dello Stato, perché gran parte dello Scalo Merci Santa Cecilia è stato destinato al nuovo passaggio della nuova strada, quindi a seguito delle rimodulazioni nell'ambito ferroviario di aree non più disponibili, non più necessarie allo svolgimento delle attività ferroviarie si è potuto fare questo accordo e quindi il Comune di Messina con Rete Ferroviaria Italiana ha potuto finalmente siglare questo accordo e procedere alla realizzazione della strada. Un'opera che ha la sua genesi quasi un trentennio fa e che nelle varie amministrazioni è stata caratterizzata tutta una serie di intoppi. All'annostro insediamento abbiamo registrato, pur sei lavori erano stati appaltati, tutta una serie di criticità, criticità che sono state prontamente risolte e che hanno permesso di poter oggi aprire, come bene lei ha evidenziato, 3 km su 3,8 km di tracciato. Ovviamente non possiamo che essere soddisfatti di questo grandissimo risultato e il merito vada a iscriversi sicuramente in tutti i lavoratori, l'impresa, la direzione lavori, il RUP e l'amministrazione che ha saputo supportare passo dopo passo tutte queste componenti per la risoluzione delle varie criticità. Le criticità, se mi consente, le evidenziamo perché siamo abituati a ragionare sempre con assoluta franchezza. Le criticità sono il tratto Rifotras che come sapete è stato oggetto di un lunghissimo contenzioso finalmente definito ma oggi ormai risolto dal punto di vista legale. L'altra criticità è relativa al viadotto Santa Cecilia dove si stanno facendo dei lavori di consolidamento del viadotto ad opere a cura di RFI. Non è soltanto una strada, lo abbiamo detto più volte, ma è anche un intervento di riqualificazione perché oggi c'è questa bella strada, ci sono ancora tante brutture, se pensiamo anche alla parte della vecchia via Don Blasco, capannoni che probabilmente andrebbero eliminati. Come immagina lei il futuro della faccia mare grazie anche a questa arteria? Come ha evidenziato, la realizzazione di un'arteria statale è linfa vitale per il tessuto urbano. Come la immagino? Banalmente con un elemento di riqualificazione che partirà dalla Real Cittadella per intenderci, per arrivare fino al porto di Tremestieri. Noi abbiamo già messo in campo tutta una serie di azioni che riguardano, da un lato il Piau che è stato riconfigurato rispetto a tutta una serie di elementi di criticità che avevamo riscontrato e a sua volta il Piau già si è reso attuativo attraverso la riqualificazione dell'area ex macello che come sapete è limitrofa alla Don Blasco, che ha avuto l'ammissione ad un finanziamento di quasi 19 milioni di euro che prevederà sicuramente l'effetto domino.